Siracusa ha scampato un incidente fatale, vivo per miracolo, attimi di terrore per l'influencer Colnaghi. Ho vissuto attimi di terrore nei giorni scorsi in provincia di Siracusa a causa di un incidente stradale nel quale sono incappato. Un'auto ha invaso improvvisamente la corsia nella quale stavo marciando e nell'impatto violentissimo sono stato sbalzato dalla sella del mio scooter finendo sull'assalciato. Sono svanuto e quando ho riaperto gli occhi mi sono ritrovato dentro un'ambulanza, non sentivo più il mio piede ma ho compreso da subito che c'era qualcosa che non andava nel mio corpo e di essere vivo per miracolo. E quanto rende noto Sebastian Colnaghi che è seracusana di 22 anni conosciuto in Sicilia per il suo impegno a difesa dell'ambiente. Sempre più spesso prosegue e vedo automobiliste e scooteriste al volante dei loro mezzi usare il telefono cellulare per chiamare qualcuno e mandare messaggi. Adesso mi rendo conto di quanto sia potenzialmente pericolosa una condotta del genere e mi sento di affermare che tutti noi, stando al telefono mentre guidiamo, diventiamo dei potenziali assassini. Mi sembra assurdo che tantissime persone ancora non se ne rendano conto. Fortunatamente per me, conclude Colnaghi, sono ancora qui a raccontare. I medici hanno riscontrato una frattura al piede e una ferita profonda all'altezza del collo dell'arto. Dal giorno dell'incidente apprezzo ancora di più la vita e comprendo che anche solo una piccola distrazione può essere a volte fatale.